Benvenuti al meteo. L'alta pressione protegge il nostro territorio ma con molte nubi e ben poco sole. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 22 dicembre. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso. Sappiamo infatti che l'anticiclone è foriero di nubi basse e nebbie. Sulle pianure avremo frequenti riduzioni della visibilità, specie nelle ore più fredde della giornata. Maggiori schiarite saranno possibili invece in montagna. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi invece tra i 7 e i 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo molte nubi con cielo coperto ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Locali foschie sulle aree pianeggiati. Temperature minime tra i 6 e i 9 gradi, massime sui 9-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui lo scenario sarà diverso, infatti avremo un tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo per qualche locale addensamento. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 10-11 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.